L'attaccante del Napoli Lo fermano in tutti i modi perché è un ombre gol Si attaccano persino alla sua maglia se riesce a sfuggire Alla falcata del mezzofondista nelle sue insidiose puntate a rete Quando semina in velocità gli avversari A talora Tucci Estrosi di classe È diventato campione di Capriole per i complimenti che riceve Nemmeno agguantandola per i calzoncini riescono a fermare il re Uccio del Napoli